Cala il sipario sull'Elital di Piano Dardine. Dal 2 marzo, ore 12, l'azienda di Massimo Pugliesi è ufficialmente fallita. La notizia era già nell'aria. I giudici hanno anche deciso di inviare tutti gli atti alla Procura della Repubblica per valutare eventuali comportamenti illeciti. Resta ora da capire quale sarà il futuro che attende i 74 lavoratori e su che tipo di ammortizzatori potranno contare. Amara l'analisi del segretario provinciale della CISL, Mario Melchionna. Un'azienda importante che ha chiuso i battenti e questo dispiace molto non solo per la ricaduta occupazionale, quindi abbiamo perso ancora posti di lavoro importanti ma anche perché è un'azienda che faceva parte del nostro tessuto industriale che per anni ha creato occupazione, ha fatto export importanti si aggiunge alla lunga lista delle aziende che hanno chiuso e questo dispiace molto. Qualche giorno fa una notizia positiva, la ECCSingea che resuscita grazie all'impegno e al TFR investito dai lavoratori qui registriamo invece il fallimento di un'azienda dove i lavoratori vanno in mezzo alla strada. Io credo che qui alla base ci sono delle politiche sbagliate, completamente sbagliate perché ci vogliono maggiori controlli, non bisogna attendere che un'azienda diventi decotta sotto gli occhi di tutti e magari si allargiscono anche i contributi statali sapendo che l'azienda decotta. Bisogna intervenire prima, bisogna controllare per evitare queste situazioni che purtroppo, ripeto, fanno solo male all'Irpina e all'intero tessuto. Non si intravedono prospettive positive su questa vicenda. Ecco, anche qui si poteva avviare un ragionamento tempo fa per evitare il fallimento e soprattutto trovare soluzioni importanti sia per i lavoratori che per l'azienda. Ma anche qui, insomma, l'imprenditore non ha dato il massimo di impegno. I lavoratori ce l'hanno messa tutta e è mancato anche l'apporto dell'istituzione e della politica perché io credo che questa azienda si poteva salvare con un piano industriale serio fatto dall'azienda, cosa che non ha mai prodotto, un accompagnamento da parte dell'istituzione e della politica per tentare di evitare il fallimento.